Tu ti vuoi presentare a me in questo modo? Che cucina! Ha dovuto spegnere tutto perché sennò si appiccicavano Ha messo anche l'olio perché non si incollassero tra di loro Che carina cosa, veniva un blocco di polinta Quindi ho deciso di farci gli gnocchi di riso con... ah, buono così C'è la magia delle fate, qua è arrivato ogni volta un dilemma C'è un uovo, che non so mai come farlo, così Eh sì, finché diventa un pochino... Bene, non ho mai provato questi gnocchi di riso e poi salsa di soia e si vola Dicevo, sono qua della donna perché dobbiamo discutere di una situazione importante D'affari Dobbiamo discutere d'affari e dobbiamo, non lo so, magari partecipare a un contest Che ci farà andare in Corea in maniera gratuita Sì, a caso eh Assolutamente a caso Vogliamo questo video e poi se lo vinceremo... Ci ricorderemo di questa situazione, cioè di che parlevamo di questa cosa importante Facendo degli gnocchi di riso Insomma, più che gnocchi di riso, guarda come sono presi Sì, esattamente Soprattutto questa situazione qua E... almeno io mi sono un attimo rappresentata bene A te, hai capito? Scusami, venga via, va a favore, sono in casa Mi ha terminato a noi Hai ragione, non ti impiazzare È nera, non posso disturbarla a vedere cucina Guarda, è nera Che ti sa cazzo di ciocca? Questa è la camera della donna Scusatemi BTS, come si chiama? Bongyu Chai Bongyu Chai Bongyu E questo è i texti, i gruppi che stanno... E poi forse c'è spazio per il muroso qua In mezzo C'è il quale di numero 9? Sì, sì, c'è il conto Lo mette in mezzo questo, hai visto questa cosa? Che bella che è questa Oh, no Questa, sì Lo metto nel tibu Vorrei così qui E la sendi via via Sì, adesso sto scherzando Comunque adesso ti spiegamo la situazione Praticamente dobbiamo inviare un video Mi fa favore a lavorare veramente Dobbiamo inviare un video perché a maggio dobbiamo andare via Andare via Dobbiamo andare via Saprete più avanti dove andiamo E in teoria ci sarà la possibilità Aspetta, partecipa con bella situazione Mouse quasi scarica Noi diamoci perché sennò E quindi ci sarà la possibilità Se vinciamo questo concorso Oltre ad esibirci davanti a tutti Vuoi sederti? Prendi una sedia Oltre ad esibirci davanti a tutti Prendi una sedia E metti di davanti e me qua Dai che se no ti spiego Già sta Oltre ad esibirci davanti a tutti Ci sarà la possibilità di vincere un viaggio in Corea Le possibilità che tu senti che abbiamo Quanti sono? Beh in te li possiamo fare stassi Molto scarse Però noi ci proviamo E ovviamente tra tutte le cose che possiamo mettere Scegliamo quello Che ogni volta che andiamo in giro Non vogliamo mai ripetere Mi sembra un'ottima idea No raga che ricordi Mi ricordi Non è che non ho Cosa ti scrivo qua? Mi spieghi cosa devo scrivere? Enter if Allora Scrivi un'email Che tu hai inviato una mail Con il video No torna indietro Calmati tu Torna indietro Ok Ok Scrivi Ho inviato una mail Con il link del video A nome Anna Dulcette Dimmi l'ingresso We have We have Write An E-mail Write Scritto Write 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 Ma non si dice così We have write Noi abbiamo scritto We wrote Abbiamo scritto We wrote Sei sicura? No ma abbiamo scritto We Come si dice il passato di send Inviare Send 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 We send An email An email Dopo vedo se è giusto A nome Anna Dulcette We have Send An email An email Con il video Con il nome del gruppo Nel nome del nostro gruppo Nell'oggetto Noi vi abbiamo inviato un'email del nostro video Ma è ovvio che è col nome No no We send We send An email Tipo Tu Cioè vi abbiamo inviato anche la mail Vi abbiamo inviato una mail a nome Anna Dulcette Vi abbiamo inviato una mail Ce la facciamo? Se tu stai scrivendo Alleghiamo il nostro video alla mail sopra riportata Cosa lo stai dicendo? Abbiamo allegato il nostro video Anna Dulcette Ha allegato Inghilidio di mano Non puoi vincere Non legge sugar A posto di leggere Invia una mail Allora scrivilo su quello Con info.office Se dici l'app Mi piace che lo legge Io lo leggo Si E che? Account del brand No Carica e basta Ma intanto posso mandare il contest qua? No Perché devi aspettare tutto Ah bello Cioè ragazzi metto tre giorni a caricare adesso Importante Tanto possiamo parlare delle cose serie? Poi le amo di cose serie Sì Poi le amo di cose serie? Sì 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 Grazie a tutti.